Ciao, sono Massimiliano e mi appresto a fare l'ice bucket challenge, che sicuramente conoscete. Nessuno mi ha sfidato, però ho preso l'iniziativa e io invece sfido tre persone. Cirpo, Fullo, mi dico presidente del GRUSP, e Giulio per gli amici di Uggio. Vi ricordo che avete 24 ore di tempo per raccogliere la sfida. Vado, eh? Pesante. Vado, vado, vado.